Valori assoluti di Excel. Cosa sono e come possono tornarci utili? Ipotizziamo questo scenario dove abbiamo una tabellina con i prodotti che andiamo ad acquistare e il loro prezzo d'acquisto per noi. E vogliamo calcolare un prezzo di rincaro da vendere poi al pubblico. Il prezzo di rincaro è dato da una cella di parametri che è appunto il rincaro. 110% perché andremo a calcolare il 10% di rincaro, quindi 25 più il 10% di rincaro. Come facciamo la formula? Andiamo nella cella adiacente del prezzo di vendita, facciamo un uguale, selezioniamo il prezzo di acquisto e lo moltiplichiamo per il rincaro. Premendo invio otterremo il risultato. Se poi trasciniamo la formula vediamo che la formula non si trascina nel modo corretto perché non abbiamo utilizzato i valori assoluti. Come applicarli? Andiamo con un F2, ci spostiamo sulla cella che vogliamo rendere statica quindi non si deve spostare con la formula, premiamo F4 e compariranno i dollari, i valori assoluti. Quando noi trascineremo la formula, ecco che la formula si calcolerà nel modo corretto. F2 fa 45 per 110%. F2 fa 45 per 100%.